Mi daresti un consiglio per pubblicare visto che io sono agli inizi? Volentieri, te lo do subito. Non pubblicare. Buongiorno da Livio Gambarini di Rotte Narrative. Oggi parliamo di questa domanda che ha aperto questo video. È una domanda che naturalmente mi hanno fatto molto spesso. È una domanda a cui diverse volte ho dato esattamente la risposta che avete sentito. E purtroppo però la maggior parte delle volte non sono stato preso sul serio. Perciò adesso approfondiamo un pochino il discorso. Perché tu non dovresti pubblicare? Forse la domanda vera dovrebbe essere quella contraria. Perché tu dovresti pubblicare? O meglio, perché tu pensi di voler pubblicare? Probabilmente non hai le idee proprio chiarissime su cosa significhi pubblicare, su cosa comporti provare a pubblicare un romanzo, su quali siano le caratteristiche che un libro che punti alla pubblicazione debba avere per raggiungere effettivamente il mercato e una volta raggiuntolo per avere successo, per creare risonanza con il pubblico. Ci sono tante considerazioni da fare che però naturalmente quando si è agli inizi, quando si viene da me a domandare dammi un consiglio per me che sono un aspirante scrittore, un autore alle prime armi, tutte cose che naturalmente non vengono tenute minimamente in considerazione. Elenchiamone qualcuna allora, per chiunque fosse in ascolto, fra gli aspiranti scrittori che seguono rotte narrative e che come sanno si ritrovano a star vedendo un video, questo qui, che appartiene alla famosa rubrica delle verità scomode, delle mazzate, degli schiaffi, delle cose che per quieto vivere normalmente gli addetti ai lavori evitano di dirvi in faccia, in modo troppo diretto perché sono brutte da dire, ma che purtroppo sono anche vere e che voi lo vogliate o no influenzeranno pesantemente la vostra storia personale se non ne tenete in dovuta considerazione. Partiamo dal primo punto, l'unico fra tutti che voi abbiate effettivamente in mente la maggior parte delle volte quando ponete questa domanda, ovvero che pubblicare un libro è abbastanza difficile, comporta una notevole quantità di stress, non perché sia arduo, non perché sia necessariamente difficoltoso raggiungere la pubblicazione, in realtà se ci si accontenta è molto facile pubblicare, ma diciamo che si voglia ottenere una pubblicazione di un certo tipo, pubblicare con un editore che non sia il primo che incontrate per strada, qualcuno che quantomeno, come si faceva una volta, ancora apporti sul testo che voi gli volete mandare quell'attenzione, quella cura editoriale, quell'impegno che le case editrici serie investono su tutti i manoscritti che selezionano e che pubblicano. Benissimo, già questo riduce di molto la gamma delle possibilità di pubblicazione. Questo fa sì che sicuramente ottenere una pubblicazione anche con un editore molto piccolo, ma dotato di queste caratteristiche, beh, sarà un'impresa piuttosto difficile. Sì, sarà un'impresa difficile e sarà un'impresa stressante. Sarà un'impresa stressante per voi, aspiranti scrittori che mi state chiedendo di darvi un consiglio. Il consiglio che vi sto dando è di considerare che se, cioè, che probabilmente sarà più difficile di quello che pensate, sarà più stressante di quello che pensate. Vi richiederà molta fatica, vi richiederà molto impegno a farvi andare bene delle cose che secondo voi vanno già bene. E chiaramente perché non ne sapete niente di come vadano, di come siano le cose che vanno bene. Lo sa, lo sa, ci si augura, lo sa invece la casa editrice che vi pubblicherà, giusto? Ma voi ancora non lo sapete, quindi sappiate che davanti a voi c'è una lunga strada piena di stress. Il fatto che non è detto poi che la casa editrice vi pubblichi una casa editrice seria comporta anche il fatto che probabilmente prima effettivamente di raggiungere quel tipo di fatica lì ce ne saranno di altro tipo. Ad esempio il fatto che verrete respinti varie, 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 varie volte. Sì, la maggior parte delle volte in cui un esordiente propone un libro a una casa editrice minimo seria, non necessariamente una big, stiamo parlando anche di piccole case editrici, ma serie, la risposta è un rifiuto. Perché gli esordienti non sanno in cosa sono lacunosi i loro testi, dal loro punto di vista vanno tutti benissimo, e perciò non sanno il perché gli stiano arrivando delle risposte negative. Qualora tra l'altro tu volessi constatare una cosa del genere, puoi iscriverti alla mailing list di Rotte Narrative su YouTube, che è il canale per cui sto realizzando questi video. Ogni giovedì, più o meno, realizziamo delle live in cui analizzo personalmente degli incipiti, dei testi di aspiranti scrittori in diretta, proprio per evidenziare quali sono le lacune, i problemi, le cose che non funzionano, e che sono poi il motivo per cui, 9 volte su 10 anche, anzi anche di più, quel testo poi venga scartato dalle case editrici. Io sono stato editor a lungo in passato, quindi ho esperienza in materia, e in particolare ho esperienza proprio sui testi degli esordienti, che presentano una vastissima gamma di problemi, ma in particolare un 80% di questi problemi sono ricorrenti, sono sempre gli stessi, ovvero quasi tutti gli aspiranti scrittori li commettono senza rendersene conto, naturalmente. Ma per, quindi, per tornare a noi, ci sono tutti questi problemi, la fatica di trovare un editore serio, lo stress causato dal processo di pubblicazione per chi non sia preparato a quello a cui andrà incontro, e questo è il primo, la difficoltà della pubblicazione, è il primo degli argomenti, che voglio che tuo aspirante scrittore abbia ben chiaro in mente quando mi domandi di darti un consiglio. Secondo argomento, il pericolo a cui ti stai sottoponendo. Tu forse non lo sai, ma voler pubblicare un libro e volerlo pubblicare partendo dal punto di partenza da cui partono quasi tutti, ovvero senza conoscere il mercato, senza conoscere l'ambiente, senza conoscere il panorama editoriale e le sue trappole, significa potenzialmente infilarsi in una serie di situazioni veramente molto molto sgradevoli. L'editoria a pagamento è una di queste, ovvero è un vasto ambiente multiforme, estremamente mimetico, sfaccettato, difficile da distinguere dall'editoria sana, popolato invece di persone, figure professionali, editori piccoli, grandi, che fingono di essere personale dell'editoria normale, mentre invece il loro obiettivo non è quello di produrre libri che vendano, cosa che invece l'imprenditore editore fa, e il suo proprio status, il noccio del suo lavoro, bensì hanno come obiettivo quello di lucrare su di te, caro amico aspirante scrittore. Sì, non puntano quindi a vendere libri, a creare libri che poi vendano. Il suo punto di guadagno sei proprio tu. E il motivo per cui sanno questi editori a pagamento che possono guadagnare moltissimo su di te è proprio perché sanno che tu vuoi solo pubblicare. O meglio, che tu hai molto chiaro in mente il fatto di voler pubblicare. E è una cosa a cui tieni così tanto che probabilmente, se loro riescono a fartela, a convincerti che sia una cosa sufficientemente sensata, riusciranno a scucirti del denaro. Quanto denaro? A volte è molto poco. A volte si parla di poche centinaia di euro. 200 euro, 300 euro. A volte si parla di cifre intorno agli 800, 1000, 1200 euro. È molto comune. Ad esempio, se ti dicono che il tuo testo ha bisogno di un editing, cosa che molto probabilmente è vera, e ti dicono che le case editrici vedono di buon occhio testi che sono già quasi perfetti. E purtroppo spesso questa cosa è vera. A quel punto loro ti propongono di farti un editing e poi pubblicare con la loro casa editrice. Ecco, attenzione a queste cose qua. Una cosa è rivolgersi a un professionista freelance, un editor magari, per commissionargli l'editing sul tuo lavoro. Ma questo non dovrebbe essere fatto come condizione posta da un editore che faccia pagare a te l'editing. Le case editrici con degli editor pagati da loro che lavorino sul suo testo ci sono. E quando una casa editrice invece sposta il peso economico del processo di raffinazione di un libro sulle tue spalle, ecco che hai a che fare con un editore a pagamento. L'editing è un caso comune. Ci sono tanti altri modi in cui un editore a pagamento, quindi un membro della famigerata EAP, finge, cioè si camuffa, attraverso i suoi comportamenti per farteli accettare meglio. Ad esempio, l'impaginazione. Ci sono delle case editrici che hanno delle convenzioni con delle agenzie di servizi editoriali che ti dicono la nostra è una casa editrice ed è strutturata, noi ci occupiamo di questo e quest'altro, ma questo e questo e questo invece li devi fare tu. Puoi farli con chi ti pare, anche con personale estero. Noi non ti obblighiamo mica, però se non conosci nessuno e sanno benissimo che tu, aspirante scrittore, non conosci nessuno perché non hai fatto nessuna ricerca prima di metterti a cercare un editore con cui pubblicare il tuo libro, tu non conoscendo nessuno verrai molto probabilmente indirizzato a scegliere i servizi editoriali dell'agenzia che ti viene proposta dall'editore, che naturalmente appartiene allo stesso personaggio che possiede anche la casa editrice e fra le due realtà naturalmente l'agenzia che ti vende l'impaginazione, la correzione bozze, l'editing, oppure anche l'ufficio stampa, ci sono anche realtà di questo tipo che subappaltano a enti in teoria terzi l'ufficio stampa, quindi la promozione del tuo libro, ma la fanno pagare a te. Anche in questi casi si parla naturalmente di editoria a pagamento. Tu non lo sai, o meglio rischi di non accorgertene, anche se magari hai sentito parlare dell'editoria a pagamento e di tutte le ramificazioni che sono sempre più numerose, sempre più variegate in cui si è suddivisa negli ultimi anni. E alla fine se queste case editrici pseudo case editrici continuano a prosperare, se continuano a nascerne sempre di più vuol dire che il mercato è fertile e purtroppo se il mercato è fertile vuol dire che tante persone ci cascano e tu probabilmente rispondi al profilo perfetto per cascarci. questo per dirti che è il secondo consiglio importante che ti do, cioè la seconda ramificazione del consiglio importante che ti sto dando in risposta alla tua domanda. Il primo era è molto più difficile e stressante di quello che pensi, il secondo è molto più pericoloso di quello che pensi, rischi veramente di sbattere via il tuo denaro senza avere in cambio un servizio scelto da te e questo è il fatto, non è il pagare in sé e per sé per avere un servizio molti aspiranti scrittori bravi che poi decollano partono semplicemente dal momento che partono dal basso e non hanno ancora nessuno che scommetta su di loro selezionando con attenzione una serie di figure professionali scelte da loro a cui affidare delle parti del loro testo quindi un impaginatore un illustratore perché no tutti i self publisher per esempio anche gente che vende parecchi libri decidono loro a chi affidare la costruzione della copertina del loro libro a chi affidare l'impaginazione a chi la selezione delle caratteristiche grafiche eccetera eccetera tutte queste cose vanno benissimo e sono capacità che anche un aspirante scrittore non necessariamente self publisher ma agli inizi del suo percorso fa molto bene a padroneggiare anche soltanto per orientarsi anche soltanto per non cascare nelle trappole di cui poc'anzi e quindi questo questi sono i primi due consigli che ti sto dando il terzo la terza ramificazione del mio consiglio pubblicare è deludente sarà deludente se riuscirai a a pubblicare davvero che non è detto come vedevamo preparati perché tu non avrai il pubblico che pensi di avere non ce l'avrai cioè non avrai il numero di vendite che probabilmente ti aspetti di avere tu mi dici ma io non mi aspetto molto eh lo so che non ti aspetti molto però ci speri te lo assicuro tu forse non te ne accorgi ma quando poi arriverà il momento in cui ti accorgerai che il tuo libro ha venduto 200 copie 250 copie e all'80% saranno persone che conosci di persona quindi tuoi amici tuoi parenti tuoi conoscenti le persone che hanno visto l'entusiasmo che tu ci hai messo loro magari in parte compreranno il tuo libro e agli altri non fregherà niente ti assicuro che a quel punto ti sarà deludente quel punto sarà dura per te e sarà tanto più dura e dolorosa quanto più tu ci tenevi a quel libro quindi preparati preparati perché succederà è una cosa purtroppo che è scritta nel destino chi parte in questo percorso nel percorso della scrittura destinata alla pubblicazione senza farsi le dovute domande prima di cominciare quasi inevitabilmente finisce a confrontarsi a un certo punto a sbattere la faccia con il fatto che non c'è pubblico e a quel punto tu sarai tentato di dar retta a tutti quei ciarlatani quei fanfaroni a quelle persone retrograde che non vivono nell'epoca in cui siamo vivono in un paradiso fatto di torri d'avorio popolate da artisti che staccati dalla massa eccetera riversano le loro poetiche ispirazioni su una carta mentre il volgo è incapace di comprendere eccetera e anche tu subirei la tentazione subirei il fascino di questo modo imbecille di pensare il modo di pensare imbecille cioè che pensa che sia colpa del pubblico mentre non è colpa del pubblico è colpa tua assolutamente e di nessun altro e c'è un quarto buon motivo per cui tu non dovresti pubblicare il quarto buon motivo è che se tu pubblicherai molto probabilmente farai dei danni il tuo libro farà dei danni perché il tuo libro è molto probabilmente brutto la maggior parte dei libri degli esordienti sono brutti la maggior parte degli esordienti che puntano a pubblicare senza sapere cosa vuol dire senza avere le idee chiare su cosa sia il mestiere dello scrivere la pratica dello scrivere ebbene questa percentuale la gran parte degli aspiranti scrittori scrivono libri che poi magari raggiungono proprio il mercato restringiamo l'analisi a questa a questa parte quindi si riesce effettivamente a pubblicare il libro effettivamente va sul mercato la gente lo vede una piccola parte una piccola percentuale di quelli che vengono pubblicati vengono effettivamente incontro al mercato la gente ne prende uno magari in una bancarella o una fiera perché no? facile è una cosa che succede comunemente la casa editrice lo presenta questo è il libro è l'opera prima di un autore che abbiamo appena selezionato con la nostra casa editrice il lettore lo guarda legge la quarta di copertina lo compra lo porta a casa inizia a leggerlo il libro è brutto come lo sono la maggior parte dei romanzi d'esordio degli esordienti penso in tutto il mondo ma in Italia io sono esperto del settore italiano ebbene quel libro lì probabilmente sarà l'ultimo libro scritto da un esordiente che quel lettore leggerà e questo cosa comporterà? comporterà che tutti gli autori esordienti che verranno dopo si ritroveranno ad avere un pubblico ulteriormente non propenso a dar loro un'occasione ti ricordi la cosa che tu ho appena detto prima? tutti danno la colpa al pubblico è vero sarà vero che la colpa è del pubblico ma perché il pubblico non dà mai un'occasione agli autori esordienti? già perché la maggior parte degli autori esordienti non sono capaci di scrivere scrivono libri brutti magari partono da idee buone ma non le hanno impostate bene non le hanno impostate tenendo conto del lettore che un domani le avrebbe dovute scegliere che le avrebbe dovute vedere che le avrebbe dovute leggere che le avrebbe dovute capire che le avrebbe dovute assorbire fare proprie e cosa ultima la summa amare perché tu vuoi pubblicare un libro se quel libro non ha le caratteristiche atte ad essere amato da qualcuno tu pensi che sia una cosa spontanea tu pensi che tutto questo processo che ti ho descritto per sommi capi potrei mostrare a parlarne ovviamente per ore e ore pensi che tutto questo processo sia una specie di schiocco di dita una cosa che succede un po' per caso come un fulmine un colpo di fulmine per strada per una ragazza o un ragazzo bellissimo perfetto che appena sarà scoccato questo magico colpo di fulmine ti risolverà per sempre la vita sentimentale è così che ragionano purtroppo la maggior parte degli aspiranti scrittori se anche tu appartieni a questa percentuale se anche tu sei convinto che sia sufficiente avere la passione per la scrittura e scrivere il romanzo con le idee bellissime che hai avuto per trovare subito un editore per pubblicare senza che ti vengano rifilate delle sole e delle mini truffe legalizzate se pensi che poi troverai un pubblico vasto che lo comprerà e ti gratificherà e che in ultimo quel pubblico si affezionerà al tuo libro dopo averlo letto e vorrà leggerne altri e perciò quindi tu potrai diventare uno scrittore professionista che non si ferma un libro solo ma che ne scrive anche altri ebbene ho delle cattive notizie per te che si racchiudono tutte quante nell'unico singolo prezioso consiglio che ti ho dato a inizio video mi hai chiesto cosa posso dirti cosa posso consigliarti per te che sei agli inizi del tuo percorso benissimo non pubblicare lascia stare se questo è il tuo modo di ragionare se questo è il tuo approccio evita fai prima hai solo dei vantaggi a lasciar perdere anche perché riflettiamoci bene perché vuoi pubblicare? esattamente cosa pensi di ottenere? ora che sai che non avrai un pubblico ora perché non ci hai pensato prima e è una cosa che dovevi pensare prima ora che sai che è difficile trovare un editore ora che sai che il mercato è saturo di opere prime di autori che pubblicano una sola opera l'opera va male non pubblicano più niente e per tutto il resto della loro vita loro si riempiono di acrimonia di tristezza di fastidio verso quei raccomandati quei maledetti quei eccetera eccetera che invece ce l'hanno fatta magari perché hanno ragionato meglio a monte ecco ora che sai che la realtà è così perché ancora vuoi pubblicare? perché esistono modi per scrivere per diciamo cogliere il bello della scrittura anche senza pubblicare anzi ti risolveresti tutti questi problemi che ti ho descritto in una volta sola se invece di andare a cercare un editore e di tentare la strada della scrittura professionale cioè la scrittura rivolta a un pubblico che non è solo espressione che è la scrittura amatoriale ma scrittura impostata come comunicazione quindi rivolta a essere letta in un determinato modo dal pubblico a incontrare i gusti del pubblico a creare un dialogo con esso con i lettori ebbene quindi questo non è obbligatorio se tu vuoi realmente scrivere per il piacere di farlo il piacere della scrittura dell'espressione del riversare i tuoi pensieri su carta eccetera eccetera benissimo guarda che qui allora c'è una lezione importantissima che puoi apprendere e che ti renderà la vita probabilmente migliore non devi pubblicare per forza quello che stai cercando tu non è la pubblicazione non lo è realmente tu sei partito pensando che lo fosse ma ti stai sbagliando quello che tu vuoi è trovare è creare qualcosa che poi tu possa condividere con le persone che ami ed è una cosa bellissima è una cosa veramente splendida se ci pensi è una forma profonda di condivisione con chi già sono le persone a cui vuoi bene che ti vogliono bene di qualcosa che vada più in profondità del normale chiacchiericcio quotidiano sui temi su temi di attualità o di qualunque cosa voi parliate pensaci pensaci bene queste persone sono tra l'altro probabilmente le stesse persone che ti avrebbero letto in ogni caso anche se tu ti fossi infilato in quell'ordalia che è il cammino di pubblicazione perciò tutta la parte buona della pubblicazione se tu andassi da uno stampatore e gli chiedessi voglio 100 copie di questo romanzo che ho scritto con questa bella copertina che ho disegnato io oppure che mi ha disegnato il mio amico gli ho dato in cambio una mancia e ci si è messi d'accordo così e poi con queste 100 copie tu fai il giro delle persone a cui vuoi bene e gliele dai in regalo oppure copertura delle spese di stampa e poco altro benissimo guarda che a te forse sembrerà che questa operazione che ti ho appena descritto sia come un accontentarsi ma guarda che non è affatto così per niente il primo che mi dice una cosa del genere lo divoro lo sbrano se ci fossero più persone dotate di un'etica più persone dotate di umiltà e soprattutto di senso critico di valutare l'opportunità delle cose avremmo molti meno romanzi d'esordio brutti ad affollare i banchi dei libri in Italia e a rendere sempre più sulle sue il pubblico non è un caso se l'Italia in tutti i paesi occidentali è tra i fanalini di coda per quanto riguarda le abitudini di lettura della gente la gente se deve svagarsi in Italia quasi più compra i libri all'estero sì perché in Italia no perché in Italia quelli che ancora leggono sono soltanto o lettori fortissimi oppure persone di una certa età perché più si va avanti più il malcostume diventa che il mercato si affolla di libri che non sono pensati per i lettori che non vanno bene per il pubblico che non trovano un pubblico non trovano il modo di comunicare efficacemente la loro idea il loro contenuto al pubblico sia a livello di paratesto quindi copertina titolo quarta di copertina tutto quello che sta attorno alla storia sia a livello di contenuto di storia stessa lo stile la costruzione del personaggio eccetera 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 sono tutte cose che dovrebbero essere considerate costruite a monte prima di iniziare a scrivere cose che tipicamente 90 volte su 100 99 volte su 100 lo scrittore alle prime armi non fa tu non l'hai fatta se mi hai fatto questa domanda probabilmente altrimenti mi avresti fatto una domanda molto più specifica che non dammi un consiglio visto che sono agli inizi eppure io questa domanda me la sono sentita rivolgere tantissime volte come si può fare allora se invece quindi la risposta è molto semplice non pubblicare stampalo il libro non hai bisogno di pubblicarlo stampalo e dallo alle persone che ti amano perché quelle persone ne sei sicuro lo leggeranno con l'attenzione necessaria attribuendolo a te per capire meglio quello che volevi dire il pubblico se anche lo raggiungessi guarda che non reagirebbe nello stesso modo questa è un'altra delle cose che molti aspiranti scrittori non si sognano sarà argomento di uno dei prossimi video qui sul canale di Rotte Narrative se ancora non sei iscritto e l'argomento ti interessa vai subito su YouTube iscriviti accendendo la campanellina di modo che ogni volta che io caricherò una pillola di scrittura per aspiranti scrittori o per scrittori che stiano migliorando sul loro percorso ti arriverà una notifica quindi non pubblicare per forza non farlo o davvero vuoi farlo? sei sicuro di volerlo fare? benissimo allora preparati una strada in salita dovrai studiare dovrai imparare dovrai disimparare delle cose di cui adesso sei convinto dovrai accorgerti e padronezzare e familiarizzare tutta una serie di situazioni di cose di abilità di capacità che attualmente ti sono completamente ignote preparati perché sarà una strada in salita se sei appunto appartiene a questa categoria cioè punti alla scrittura professionale allora sicuramente rotte narrative la realtà di cui faccio parte anch'io ti darà una grossa mano in questo caso vai appunto su youtube e iscriviti alla mailing list dove potrai ricevere una serie di informazioni di contenuti gratuiti che potranno arrivarti in modo diretto e che non sono invece disponibili semplicemente sul canale normale se ci sono delle domande delle questioni dei dubbi che ti fossero venuti in mente nel corso di questo video scrivimi lì qua sotto in chat se ti è mai capitato di incontrare un aspirante scrittore che risponda alla descrizione di qui sopra descrivimi quello che è successo non necessariamente facendo nomi anzi meglio non farli perché non siamo qui per offendere nessuno ma soltanto per insegnare per divulgare per dare informazioni e risparmiare delle brutte sorprese a chiunque come noi nutra il sogno della scrittura e l'importante è ricordare sempre che un sogno fa bene a restare un sogno fino a quando non si decide di trasformarlo in un progetto ed è quello che facciamo qui noi a Rotte Narrative quindi per oggi vi saluto le mazzate e gli schiaffi sono finiti se ne volete altri vi aspetto su Rotte Narrative arrivederci